Per il vostro servizio voi siete nella condizione di favorire la cultura dell'incontro. Siete funzionari diplomatici e tutto il vostro lavoro tende a far sì che i rappresentanti dei paesi, delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni, possano incontrarsi nel modo più proficuo. Lo ha detto il Papa, ricevendo i diplomatici italiani. In particolare, ha detto loro, voi avete una carta in più da giocare, quella del patrimonio culturale italiano. L'Italia, ha aggiunto Papa Francesco, è sempre stata nel mondo sinonimo di cultura, di arte e di civiltà. E voi contribuite a far sì che questo sia valorizzato per la cultura dell'incontro e che tale patrimonio vada a vantaggio del bene comune, di quella che Paolo VI chiamava la civiltà dell'amore.